Hai mai fatto la pasta in casa senza uova? Oggi ti mostro come è semplice. Facciamo insieme le farfalle, un formato che piace molto ai bambini. In una ciotola riunisci la farina con il sale e la curcuma se vuoi farla colorata e inizia ad impastare aggiungendo acqua poco per volta fino ad ottenere un panetto morbido non appiccicoso. Lascialo riposare in frigorifero mezz'ora. Poi prendi lei, la macchina della pasta di Tescoma, e fissala al piano di lavoro. Trasferisci l'impasto sul piano infarinato, ammorbidiscilo velocemente e dividilo in palline. Passa ogni pallina nei rulli lisci della macchinetta, partendo dallo spessore più grande fino a scendere al 4, regolando di volta in volta la manopola che si trova al lato. Taglia le sfoglie con una rondella tagliapasta per realizzare dei quadrati, poi forma con ognuno le farfalle. Indice in mezzo, pollice medio piegano e chiudono al centro. Lasciale seccare per 30 minuti, poi non resta che cuocerle 4 minuti in acqua bollente salata, per poi scolarle direttamente in padella. Io le ho saltate con carote aromatizzate alla salvia e una crema di fave al limone. Tu con cosa le condirai?